Ciao a tutte e tutti, buona giornata, buona serata in base al momento in cui state guardando questo video. Ci siamo, siamo sotto Natale o durante Natale o appena passato Natale, quasi la Befana, chissà. E voi state guardando questo video e state pensando a quello là, un altro che ci chiederà qualcosa per questo periodo. Sì, perché Natale è il periodo in cui tutte le associazioni, tutto il mondo del terzo settore fa appelli, richiede fondi, richiede soldi, richiede aiuti, contributi, eccetera. Noi in realtà siamo qui per comunicarvi invece un meraviglioso dono, un dono che ci ha fatto Filippo Bozzotti, un nostro socio, un nostro amico, un nostro compagno di corso, di percorso, che ha deciso di sostenere il nostro lavoro e di farlo in un modo importantissimo. Lui ha messo a disposizione fino a 10.000 euro dicendo che avrebbe raddoppiato le donazioni, i sostegni, i contributi, l'escrizione ai corsi, qualunque tipo di entrata che sarebbe arrivata dal nostro pubblico da qui alla Befana. Questo perché voleva assumersi in prima persona la possibilità, la responsabilità di contribuire al nostro lavoro. Come sapete siamo ormai 13 persone che ogni mese contro ogni logica, senza avere nessuno dietro, cerca di raccontare questo mondo che cambia, di mapparlo, di far emergere un altro immaginario, di contrastare l'immagine di dolore, decadenza e angoscia che ci propongono costantemente i media. Ha deciso di raddoppiarlo e però ha voluto farlo anche in modo da chiamare altre lezioni. Filippo dice, beh, insomma, se riteniamo importante questa informazione, questo strumento in un anno così difficile, ma allo stesso tempo in cui il nostro lavoro è stato ancora più apprezzato da voi, questo ce lo dicono i numeri, perché abbiamo frantumato ogni record, ormai ci leggete davvero a milioni, e lui dice, assumiamoci la responsabilità anche di contribuire a questo processo, a questo percorso. Il nostro sogno sarebbe raggiungere quindi questa cifra di 20.000 euro, 10.000 messi da Filippo, 10.000 messi da voi. per permetterci di iniziare il nuovo anno con un po' di serenità, con la possibilità di mettere in cantiere nuovi progetti. Come sapete, ormai abbiamo tantissimi format, approfondimenti, stiamo lanciando questi nuovi corsi con Ecosapere. E anche se voi vi iscrivete al corso, Filippo raddoppierà la cifra, quindi se banalmente voi pagate i 147 euro per partecipare al corso, Filippo ci dona in automatico 147 euro equivalenti. e ci permette, in realtà lui, usiamo la parola donazione ma non ci piace molto, in realtà è un contributo fondamentale per un tipo di lavoro che noi facciamo. L'informazione non deve essere gratuita, l'informazione deve costare poco, deve essere accessibile a tutti. Ma ragazzi, ragazze, se noi non paghiamo per l'informazione, i giornalisti dovranno rivolgersi alle multinazionali, ai politici, a tutti quelli che voi non volete che influenzino il nostro lavoro. Per permetterci di essere indipendenti noi sono anni che facciamo bandi, cerchiamo sostegni da partner come Banca Etica, KS, Ashoka e mille altri, ma l'obiettivo principale è avere il vostro contributo per costruire un nuovo mondo insieme. Voi lo costruite, noi lo raccontiamo, lo rendiamo replicabile, vi permettiamo di connettervi, di conoscervi, di usare la nostra bacheca, di usare i nostri portali regionali e di tantissime altre cose. L'anno prossimo vogliamo partire in Sicilia, vogliamo partire in Sardegna, vogliamo declinare, faremo un viaggio nell'amore che cambia, faremo veramente tantissime iniziative e cercheremo di reagire al terrore e alla paura con una narrazione diversa, un altro immaginario, un'altra normalità. Vi aspettiamo. Grazie e buon rinascimento a tutti e a tutti.